Sei felice? No, non mi rispondere. Cristo santo, scusami. Non lo so che mi hai preso scusa. Ah, ah, te fa paura una... Una femmina come Katie? Dello, l'ho impazzito completamente. Che cazzo vuol dire completamente? Ah, già. Che poi se ci pensi, è un concetto che ti rende ancora più triste. E quindi sei lì che fai finta di restare ancora più allegro, ma non funziona, eh? La gente se ne accorge che stai solo facendo finta e si imbarazzano. E questo non fa parte del piano! Sì, sì, adesso va bene, però non iniziamo a esagerare come... Come se la gravità del fatto va bene. Lo so, lo so, lo so, lo so. Non so che è morto, ma tu non lo ripetere. E a quel punto tu capisci che l'hanno capito che tu stai solo facendo finta e il loro imbarazzo ti rende ancora più triste, quindi devi cercare di essere ancora più felice. Solo non si vede Brian T. Brian T. E correvo, correvo! Oh, graffi! C'erano un sacco di graffi sulla mia pelle! Ma non pensi che oggi sei un giorno fantastico! Oh, ho dovuto usare la violenza! Sì, mi sento violenza! Non mi accetto che gli avrei cavato un occhio! E stavo per farlo! Oh, Mila, Mila, che ti ultimamente mi ha censo che è violenta! Ma non senti la luce del giorno e le cantine palle! E che sta rovinato! Ma quale dei due? Era... Era buco. Ma mangiamolo, Mila, e te! Ah, bene! Adesso io sono Katie, eh! Sei qui in sito tutto il giorno e all'improvviso inizia a parlare con Katie! Katie! Brian Tate! Chi è? Viene qui! Oh, io! E se non ci aiuti ti ammazziamo! Che dici, Brian? Ti aiuti? Capisci? Capire cosa? Non puoi tornare! Ar weren't Одick? Ciao! Boaberg! Capisci? Fine! Catcher The Malone! Sabre le取00ano! Shh! pity fameур sinaler! Siennenzilla千万yjutni! Ci LETS gastu qui! Sabre le取00ano! Cannibal uno! Capisci? Nebraska! ecc passar быстро! Grazie a tutti Grazie a tutti